I soliti gnoti di liceo scientifico Francesco Severi, Castellammare di Stabia, quinta. Azione! Che vuoi? È buona! Che vuoi fareste meglio andare a lavorare, rubare, questi che vengono lì. Ma lavorare è stacco. Allora, io che è? È buona, è passaggente. Ma come si apre questa barattola? Ecco uno dei scassinatori, oh, dira così. Ah, c'è anche ghiaccio, vedi? Ci sono quattro mattini, da una riscaldatina. Un gocciatore in più ci vorrei. A me o a me vado. Dalle nostre parti, diciamo, femmina piccante, figliere la vera magica. Femmina ziniera, figliere la vera migliore. Ragazzoni! Appare la capa, ma non c'è la capa della ragazza! Noi! 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 Grazie a tutti.